Io poi ho fatto appena il tempo a portare scarpe ortocatiche e quelle per la scoliosi, erano difficili da portare, erano due strumenti di tortura, quelle per la scoliosi, sì sì, c'era uno di classe mia che le portavano, chiamavano attenti a quei due, perché ci giocava per fine al pallone e hai rotto più tibie lui che alla settimana bianca. E' vero, e io dall'altro, che cammino malissimo, perché erano così brutte queste scarpe che ce l'avevo, non le mettevo perché mi vergognavo un po' di farne vedere agli altri bambini. Perché bisogna fare sport in realtà per fortificare la schiena, no? Io per esempio ho fatto appena il tempo a fare judo, tennis e palla a volo, a sudare dentro quelle tute acriliche e puzzolentissime e noi ci facciamo la doccia e i giorni dello sport e il bagno una volta a settimana, si si impieva la vasca e si faceva a turno. Prima io e mio fratello, l'ultima era mia nonna che si faceva i fanghi. Questo è tutto, se ti vede, è tutto in letto d'avvocato genere questa cosa qua. Sì, qui è molto alto. Al Teatro Sette, qui a Roma? Al Teatro Sette, qui a Roma. Dove sta? Ci dici la via? È in via Benevento, che è in zona Piazza Bologna. Per dire, non gli veni a mente, Benevento ha dato un cazzotto sul tavolo, come avete sentito un ragazzo, via Benevento a Piazza Bologna. Fino al 12 dicembre. A cosa ti rivedi, Ricky, di queste cose? Cosa ti ricordi della tua infanzia? Tutte, tutte. A parte i scapponi ortopedici, che avevo bisogno. Oh, a Ricky ha portato gli stivali texani per quanti anni? Tanti. Adesso ti facci ancora, no? No, adesso c'ho l'MBT, adesso sono trendy. Ah, le MBT sono, sono quelle scarpe per i ginocchi, è vero? Quelle che ti aiutano, e dovrei comprarle anch'io. Perché io ho problemi di... Beh, non è che siamo adesso a parlare... Sapete come sono queste scarpe? No. Sono tipo, come posso dire? Bascolati. Bascolati, sì. Perché tu diciamo che rinforzano il storico, perché cerchi sempre tutto l'equilibrio. Quando darsi nel ristorante sei rinforzano il bambino. Però è una cosa che fai di tua cucina, fai di tua cucina. Scusa, mi chieda che, dall'altro, in quest'altro, spero, un po' 70, ha rinvescato una canzone che mi ricorda un oggetto feticcio. Pippo Franco fece un album, si chiamava Cara Kili, e praticamente c'era la copertina di lui sulla tazza, era tutta bianca, la copertina... Butter, si dice. ...sul butter, sul butter close. Ora lo dico io come si dice, però. Come si dice? Si dice Cess. Cess. Perché non ho preso? No, no, no. C'è, allora, perché? Tu hai estrapolato e te la sei rifatta a modo tuo questa canzone, molto bella, che parla di cosa, Cess? Parla d'amore, senza dubbio. Vorrei condividerla con tutti gli altri, se possibile. Insomma, ci vuole un po' di orecchio per captarne il senso, ma comunque parla d'amore. Allora, da A Letto dopo Carosello, che è One Girl Show di Michele Andreozzi. One Girl Show. One Girl Show. Ti ringrazio, almeno il sesso, hai detto Quattarmi Show, almeno dimmi che sono donna. E che donna, se ne dire, e che donna. Sto vedendo oggi anche la festa welcome, estrapolato in una situazione di Pippo Franco, versione 2010, Cesso, Michele Andreozzi. E' un po'! Anche la coreografia non posso raccontarvela. Un po' forza. Cesso, che notti questa sera, guardando il mio volto, è la prima, del tuo vestito blu. Uh, uh, scarico, il tuo regalo è bene, finisce il mio amor con te. Catena, tu non esisti più. Catena, sbracciate il nostro amore, mi resti soltanto. Tazza, vuota di caffè, wewe, amici, un dallo di sitano, l'amore non è altro che, aria, che vola via da me. e che non c'è. E ho guidato, un dallo di me, un bel dubbogno, un vendito canto. C'hai ancora molto ma... C'è solo un po' di dirmi che c'è ancora la vita Sforzo a non pensarti più Un ricordo se è più bello Ma io pioggia, pioggia e dopo te Tu visci ciò che resta più